Alcune nuove limitazioni in vigore da oggi a Caltanissetta con la nuova ordinanza comunale per la tutela e il benessere degli animali. Ordinanza che risponde alla necessità di tutelare le specie animali conformandosi ai principi etici e morali della comunità. Dalla dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata nel 78 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi. In ogni privazione di libertà, anche se ai fini educativi, è contraria a questo diritto. E poi il principio ormai consolidato che recita che nessun animale debba essere utilizzato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni di animali e di spettacoli che utilizzano gli animali sono quindi incompatibili con la dignità dell'animale. Così l'ordinanza sindacale, richiamando questi principi, pone il divieto assoluto sul territorio comunale di utilizzare per esposizione animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacoli e di intrattenimento pubblico, ad eccezione di circhi e mostre zoologiche itineranti che dovranno rispettare regole standard previsti da legge e dovranno ulteriormente attenersi alle condizioni dettate dall'ordinanza. Nella sostanza non cambierà nulla, perché i circhi sono sempre stati accetti nella nostra città, rendendo felici i grandi, i piccini e anche gli animali. La cosa che noi chiediamo al circo è garantire agli animali il loro benessere vitale nello spazio e nel modo di gestirli. Possono cambiare anche modo di fare spettacolo. Non vogliamo fare un torto al circo e ai lavoratori, garantiamo il loro lavoro, ma io vorrei anche garantire il benessere vitale agli animali, una garanzia in più per gli animali e per quelli che devono andarli a conoscere e a vederli. E inoltre in via di preparazione per la proposta di approvazione un ampio regolamento sul benessere e sulla tutela dei diritti degli animali.